Passiamo all'analisi di altre due opere di David. Si tratta di due opere di grandissimo formato. Una è le sabine, quello che stiamo osservando in questo momento, e l'altro, quello che analizzeremo successivamente, le onida alle termopili. E in queste opere possiamo ritrovare proprio la concretizzazione delle indicazioni o degli insentiamenti del Winkelmann, dei principi neoclassici del Winkelmann, quello di evitare la rappresentazione dell'azione, dell'azione cruenta in sé e per sé, proprio per far sì che in questo modo si potesse sottolineare le virtù morali dei personaggi rappresentati, quelle che possiamo dire appunto la grandezza d'animo. Quindi, come Winkelmann indicava, di rappresentare il momento subito prima dell'azione o subito dopo l'azione, quando appunto le passioni erano ormai sopite. Il dipinto che stiamo osservando, le sabine appunto, fu dipinto tra il 1794 e il 1799, praticamente nel 1700 lo iniziò quando David fu imprigionato alla morte di Robespierre, in quanto lui aveva appoggiato a Robespierre nel 94, per alcuni mesi fu imprigionato. Si tratta di un episodio storico, come abbiamo compreso, ripreso poi esattamente dalle scritture degli storici latini, precisamente dallo storico Tito Livio e da Plutarco. Qual è la storia? È la storia secondo la quale i sabini, che erano guidati da Tazio, il loro condottiero, tentano di riprendere le proprie donne, che erano state rapite dai romani precedentemente, guidati appunto da Romolo. I romani l'avevano fatto perché dovevano popolare la nuova città, appunto quella di Roma. È chiaramente un racconto mitico. Cosa succede, secondo appunto le narrazioni dei romani? Succede che la ragione prevale, perché al fine di evitare spargimenti di sangue inutili, e quindi di fare qualcosa di inutile, i due condottieri si accordano per risolvere la questione con un duello, cioè non fanno scontrare le armate. Nel momento in cui sta per iniziare il duello, succede un altro evento. Arrivano le donne con i loro bambini, ormai donne che erano praticamente diventate romane, perché avevano appunto procreato insieme ai romani, e si interpongono tra i contendenti, facendo cessare quindi le ostilità. Quindi la rappresentazione di un vero e proprio dramma, in qualche modo. Il racconto, che sembra lineare, in effetti si va complicando, perché le donne, che erano figlie e sorelle dei sabbini, avevano i loro parenti nel popolo sabbino, erano però contemporaneamente diventate le mogli dei romani, e i loro figli erano appunto figli anche di romani. Il dramma è proprio qui, perché, se prendiamo la singola donna come esempio, questa donna si sente in qualche modo divisa tra l'amore paterno e fraterno sabbino e l'amore coniugale romano. Sono le persone importanti per queste donne, in qualche modo, e loro vedono che le persone più importanti della loro vita si stanno uccidendo, insomma. E allora cosa succede? Succede che proprio questa consapevolezza di questo evento fa scattare, in realtà, nell'animo sia dei romani che dei sabbini, quindi dei due contendenti, un sentimento di amore, praticamente, e alla fine i contendenti si abbracciano per formare poi alla fine un unico popolo, perché i nuovi nati, appunto i bambini, sono in qualche modo il frutto dei due popoli contemporaneamente. Senza dubbio, quindi, il dipinto ha un intento pedagogico, vuole, in qualche modo, indicare delle virtù morali da seguire e, come abbiamo visto anche precedentemente, i messaggi, in qualche modo, etici di David, poi sono anche dei messaggi politici rivolti, appunto, al popolo, in qualche modo tendono ad educare il popolo stesso. Infatti, dobbiamo anche considerare il momento in cui viene dipinto quest'opera, che è il 1794, come abbiamo detto, un momento in cui vi era una sorta di guerra civile all'interno degli stessi francesi. Praticamente c'erano fazioni in lotta all'interno dello stesso popolo e quindi, politicamente, in qualche modo, David vuole invitare i francesi stessi ad abbandonare quei sentimenti di vendetta o di, in qualche modo, emotivi di rivalsa per le presunte cattivere subite dall'altra fazione per giungere poi, quindi, a quel grande abbraccio di cui si parlava prima, cioè, praticamente, alla pacificazione tra le fazioni, in maniera tale che, poi, effettivamente, tutti i francesi diventino un unico popolo unito allo stesso modo come fecero, praticamente, i romani e i sabini. Quindi, certamente, è un'idea, un messaggio dell'artista il quale, però, è contemporaneamente anche uomo del proprio tempo e quindi impegnato anche politicamente così come, in qualche modo, indicavano gli stessi principi neoclassici, se vogliamo. E lui, le proprie idee non solo le esprimeva attraverso iscritti oppure attraverso, appunto, comizi o quant'altro ma, soprattutto, con le proprie opere. Abbiamo detto che questa è un'opera di grande formato è una scelta anche questa l'intento è quello di fare opere che potessero essere viste dal più grande numero di persone tutte insieme in maniera tale che non rimanessero delle opere a disposizione solo di una piccola elite di persone. Cerchiamo ora di identificare i vari personaggi in questa scena che è piuttosto piena di elementi. Sicuramente gli elementi che si trovano in primo piano quelli che saltano subito agli occhi sono i due nudi di Tazio che è quello a sinistra e che è visto praticamente frontale mentre sulla destra abbiamo Romolo che è visto di spalle e sta cercando di lanciare il giavellotto. quindi Tazio identificato con il numero uno e Romolo identificato con il numero due. L'altro personaggio che è sempre in primo piano è la fanciulla identificata con il numero tre si tratta di Ersilia Ersilia era contemporaneamente la figlia di Tazio a sinistra ma anche la compagna o moglie di Romolo e quindi era l'elemento di collegamento tra i due contendenti. David decide di rappresentare appunto Ersilia con le braccia e le gambe divaricate e al centro dei due proprio nell'atto quasi di dividere i due contendenti ed è avvolta in una candida veste bianca quindi purezza le due figure principali appunto di Tazio e di Romolo come vediamo sono rappresentati nudi ma questo in realtà proprio a ricordare un po' le statue greche quindi hanno anche un'imponenza statuaria e che se ricordiamo bene appunto le statue greche rappresentanti eroi oppure divinità erano praticamente sempre nude quelle maschili in particolar modo il fatto di rappresentare appunto dei personaggi nudi in realtà al tempo fu un po' criticato perché oltre ai due contendenti ce ne sono ancora altri due personaggi sempre maschili e sempre posti praticamente in primo piano anche essi rappresentati nudi e sono alternati infatti a sinistra se guardiamo da sinistra a destra praticamente si alternano abbiamo a sinistra un personaggio nudo che però è visto di spalle poi segue Tazio che invece è sempre nudo ma visto frontale di nuovo andando verso destra abbiamo Romolo nudo ma visto di spalle poi abbiamo un quarto personaggio anche quello nudo ma visto di frontale quindi c'è praticamente una sorta di ritmo alternato come dicevamo precedentemente se poi andiamo a analizzare lo spazio in cui David decide di far muovere i personaggi vediamo che è uno spazio abbastanza profondo con una prospettiva diciamo di tipo brunelleschiano abbastanza evidente grazie anche agli indicatori prospettici fornitici dalle mura e dalle fortificazioni che si vedono sulla sinistra seguiti poi da quella che appunto veniva chiamata la rupe tarpea ma al di là di questi di questi elementi che sono sì presenti ma non sono quelli che qualificano veramente l'opera mentre dal punto di vista compositivo vi è proprio una scelta di compositiva di tipo geometrico molto rigida che utilizza appunto David infatti se noi tracciamo una linea esattamente a metà in orizzontale ci accorgiamo che nella metà sottostante sono praticamente concentrati tutti i personaggi sicuramente tutti i personaggi principali e osservando con ancora più attenzione ci accorgiamo che esattamente a metà in senso verticale troviamo una figura molto evidente che è questa donna con il vestito rosso e che ha le braccia alzate ecco questa si trova esattamente molto evidente si trova esattamente al centro da sinistra verso destra quindi sulla mezzeria verticale come dicevamo prima ed è posta con questi colori e con questa evidenza volutamente quindi per far intravedere proprio la mezzeria del dipinto il centro della scena stessa ora osservando i due personaggi vediamo che Tazio è inclinato verso sinistra quindi all'indietro e lo stesso Romolo che lo affronta è inclinato verso destra anche lui verso all'indietro se poi osserviamo la stessa figura di Ersilia che appunto ha le gambe e le braccia divaricate ecco in qualche modo si determinano due porzioni di spazio apparentemente vuote insomma che poi vengono riempite con dei personaggi ma in qualche modo è come se si delineassero delle forme in qualche modo triangolari come possiamo ben osservare in questo schema grafico ecco proprio questa questa impostazione geometrica molto definita molto bloccata in qualche modo sembra quasi che congeli cioè che blocchi il movimento dei vari personaggi come se fossero congelati in una posizione se osserviamo il resto dei personaggi vediamo che appunto ci sono le armate che sono evidenziate dal gran numero di lance e da qualche personaggio che fuoriesce dalla nebbia ecco sulla sinistra sembra quasi che questa questo insieme di personaggi stia avanzando david pone una figura appunto questa donna che solleva il proprio figlio in alto questa donna che sta salendo su un pezzo di trabbiazione insomma praticamente un pezzo architettonico ecco con questa posizione perfettamente verticale sembra quasi che stia bloccando il movimento anche qui delle armate che stanno arrivando per come appunto david quindi tratta sia i personaggi che la composizione noi rileviamo che sicuramente david ha fatto uno studio molto approfondito sui modelli statuari antichi e cerca di quasi tradurli con gusto pittorico ma lasciando quel senso quasi di scultura che continua a rimanere nonostante appunto insomma che lui utilizzi gli accordi di colore per appunto dare pathos all'intera scena e quindi realizzare poi un dipinto e di fatti possiamo quasi dire così come dicevano appunto i suoi contemporanei che questo sembra quasi un basso rilievo va letto quasi come un basso rilievo va visto quasi come un basso rilievo più che un vero e proprio dipinto piatto bidimensionale rivolgendo adesso l'attenzione proprio al gruppo centrale delle donne che stanno portando pace tra i contendenti con Ersilia in primissimo piano ecco tutto questo gruppo la concitazione la composizione sembra in qualche modo che sia stata influenzata da altri artisti precedenti a Davide di cui lui conosceva bene le opere per averle osservate con attenzione in primo luogo in primo luogo Raffaello con la scena delle donne che si trova nel dipinto dell'incendio di Borgo anzi è un affresco in verità con quel gruppo di donne appunto con bambini che si trovava in primo piano proprio nell'affresco di cui parlavamo e Guidoreni con la strage degli innocenti pieno di di patos ecco questi due dipinti ricordano molto da vicino appunto quello che poi ha organizzato lo stesso David in cui in qualche modo riprende la concitazione e una serie di atteggiamenti appunto che abbiamo ritrovato che ritroviamo nei dipinti appunto prima mostrati passiamo ora ad un altro all'altra opera di cui avevamo accennato all'inizio parliamo di appunto di Leonida alle Termopili anche questa è un'opera di grande formato come la precedente per la scelta del grande formato è praticamente identica a quella precedente doveva essere vista dal più grande numero di persone inoltre anche qui abbiamo un soggetto praticamente storico in qualche modo ma la scelta del soggetto storico è chiaramente dell'epoca classica fra le altre cose appunto della storia greca in particolar modo la scelta ovviamente è dovuta anche per quell'intento pedagogico di cui abbiamo detto precedentemente insegnare insomma qualche i valori della i valori della nuova società che si tendeva a costruire sono i principi del neoclassicismo fondamentalmente attraverso l'esposizione gli esempi importanti della storia appunto del passato dell'epoca classica considerata appunto l'epoca d'oro dell'umanità l'episodio appunto è quello del sacrificio eroico che gli spartani che erano guidati appunto dal generale Leonida per difendere il passo delle termopili contro l'avanzare delle armate persiane e diserse che poi insomma tendevano a occupare e distruggere la civiltà greca in qualche modo anche qui ritroviamo il senso il sentimento l'insegnamento di David verso l'amore per la patria in qualche modo come appunto gli spartani dimostrarono di avere sacrificando addirittura la propria vita e in qualche modo quindi l'attaccamento alla loro città la loro polis non solo ma c'era c'era anche un altro motivo gli spartani erano considerati molto rigidi nei propri costumi austeri ed era anche questo una sorta di insegnamento e di monito che David voleva dare ai suoi concittadini ovviamente come era solito fare David il dipinto fu attentamente studiato e preparato in anticipo con una serie di studi grafici di cui si conservano ancora dei resti e sono praticamente adesso a New York anche se poi l'opera finale ha delle modifiche insomma vengono portate delle modifiche in ogni caso lo schema generale è abbastanza simile a quello delle sabine abbiamo praticamente la rappresentazione di nudi eroici scultorei alcuni in primo piano e sullo sfondo tutta una serie di elementi che raccontano appunto l'episodio stesso proprio esattamente al centro abbiamo Leonida che viene rappresentato seduto con un atteggiamento piuttosto pensoso è il momento prima dell'azione prima della battaglia è il momento in cui Leonida si sta concentrando e in qualche modo è anche l'elemento che segna la mezzeria poi abbiamo ai lati di Leonida a sinistra in basso vediamo un giovane che si sta allacciando un sandalo mentre a destra vediamo un altro giovane ragazzo che si sta stringendo probabilmente al proprio genitore ecco entrambi i ragazzi hanno le teste coronate da delle ghirlande di fiori chi sono questi ragazzi in realtà erano dei ragazzi che vennero spediti indietro da Leonida perché considerati troppo giovani per poter combattere e per sacrificarsi sapevano che praticamente sarebbero sacrificati però il loro sacrificio poteva in qualche modo dare tempo al resto della popolazione di porsi in salvo rallentando almeno se non fermando del tutto l'avanzata dei persiani bene invece i giovani ragazzi decisero di rimanere e quindi sacrificarsi insieme a tutti gli altri e quindi ecco l'eroismo questa volta David appunto li rappresenta e li raffigura con le teste coronate di fiori simbolo di purezza e anche appunto di gioventù alla destra di Leonida poi un po' più in alto David raffigura dei soldati che stanno suonando la tromba evidentemente a indicare appunto che sono stati avvistati i persiani i nemici che si stanno avvicinando e quindi danno l'allarme poi ci sono tutti i soldati specialmente quelli posti in primo piano che vediamo qua a sinistra li vediamo che al suono delle trombe e in qualche modo con gestualità un po' scomposta gambe divergenti busti inclinati ecco sottolineano proprio l'ansia e la fretta del momento la concitazione del momento in particolare in questo dettaglio vediamo proprio un soldato anziano cieco che è quello che vediamo coperto dall'altro che è sostenuto appunto da uno più giovane ma comunque con un atteggiamento piuttosto agitato sempre rispetto a Leonida sulla destra poi più in basso seduto più in basso vediamo un altro personaggio che è sempre in primo piano trattato sempre in maniera scultorea si tratta di Agis è il cognato di Leonida stesso e lo vediamo nel momento in cui sta deponendo la corona di fiori e sta praticamente prendendo l'elmo per accingersi quindi ad andare in battaglia e a sacrificarsi ancora alla sinistra di Leonida poi vediamo quattro personaggi quattro amici in qualche modo sembra quasi riproporre la postura e l'atteggiamento del giuramento degli Orazzi si tratta di quattro amici che come vediamo sono abbracciati insomma allacciati tra di loro stanno offrendo le proprie colone verso un commilitone verso un alto soldato il quale si è arrampicato sulla roccia e sembra che stia incidendo appunto sulla roccia stessa qualcosa usando il manico l'elsa della spada di cosa si tratta è un messaggio come possiamo vedere qui è proprio una scritta è un messaggio per i futuri viaggiatori la traduzione sarebbe straniero va a dire agli spartani che siamo morti qui obbedendo ai loro ordini e ancora una volta anche questo ultimo elemento e questo ultimo dettaglio sembra essere proprio un messaggio che in qualche modo David vuole lanciare ai propri connazionali e agli uomini tutti cercando chiedendo di emulare lo stesso coraggio la stessa lealtà che ebbero appunto questi eroici uomini che si sacrificarono per il bene comune di tutti più qui k